Adesso chiamo Fiammetta dal Circolo di Verona che ci leggerà appunto alcuni passi di una canzone di Paolo Ferrarini, poi seguirà Francesco Burroni, un intermezzo, riprendiamo con le varie testimonianze fra poco, grazie mille. Cercheranno di plasmare i tuoi istinti come se tu fossi nato tabula rasa, ti chiederanno cose del tipo cosa farai da grande, diventerai un dottore, un maestro, un prete, hai una ragazza? Cosa farai quando sarai ricco? Ti prenderai una bella casa, una bella macchina? A proposito, cosa vuoi per il tuo compleanno? Hai fatto il birichino? Chi è il tuo migliore amico? Vuoi bene a Gesù? E ce la metterai tutta a trovare risposte a queste domande per te stesso e per gli altri. Rifletterai a lungo su questi argomenti cercando un modo soddisfacente di mettere le crocette su tutte le opzioni e compilare il modulo dei paradigmi. Finché, una bella sera, potresti renderti conto che nessuna di queste domande ha alcuna rilevanza per te. da Paradigmi Gnoseologici di Paolo Ferrarini. Il concerto, come sappiamo, non si fa, Paolo Ferrarini, eccolo lì. E là ci sono i suoi dischi, Paradigmi Gnoseologici e Pensieri di un ateo morente. Grazie. 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 Grazie.